Trisolcus Iapponicus Trisolcus Iapponicus può lavorare assieme ad Anastatus? Si danno fastidio? Sì, possono coesistare, non è un problema. Sono tutti bene adattati. La questione è sempre se l'Anastatus, quando riuscita, potrebbe uccidere il rosso di japonico e ridurre l'effetto. E questo non è il caso, possono coesistare. E' molto simile, in Cina c'è un altro Anastatus che coesiste con il Trisolcus japonico, quindi potrebbero vivere l'altro, senza problemi. Diciamo che il nostro governo darà l'ok alla diffusione, moltiplicazione e diffusione di Trisolcus Iapponicus. Quanto tempo ci vuole per produrre vespe a sufficienza? Questo può essere abbastanza veloce. Dipende davvero da quanti acce di stink bug che puoi produrre. Questo è più difficile che il rosso stesso. Se questo non è un problema, in due settimane puoi produrre una nuova generazione di rosso. Quindi, se hai un buon numero inizio, diciamo circa 100 rosso, e se hai circa circa 500-600 acce che produrre, puoi produrre facilmente circa 10.000 in 4 settimane. Quanto tempo dovremmo invece aspettare per ritrovare l'equilibrio nel sistema? Questo è difficile da prevedere. Il primo passo sarà che lo spreaderà in un'area in un'area e rilassare piccoli numeri in diverse regioni, quindi rilassare in ogni parte. E poi vediamo come funziona. Normalmente, quando ho lavorato in un progetto biocontrol, rilassiamo circa due o tre anni, per sicurare che è rilassato. in questo caso è un po' diverso, perché la guerra è stata già in Italia e in molti paesi. Quindi, spero che non abbiamo fatto questo durante molti anni, e che vedremo l'effetto molto veloce. Grazie a tutti.